E' una squadra in fiducia, l'Avellino ha visto post-Monterosi, un gruppo che ha ritrovato la convinzione nei propri mezzi dopo un periodo buio, scuro, dove la luce in fondo al tunnel sembrava sempre più lontana. Con cinismo, l'Avellino delle ultime sei apparizioni mostra concretezza e voglia di fare. Il cambio di modulo con i 4-2-3-1 scelto da tecnico toscano sembrasse stata la giusta medicina per una squadra che non aveva, e forse non ha ancora, compreso tutte le proprie potenzialità. Se con il Palermo l'Avellino è apparso bellissimo, soprattutto sotto il profilo della qualità del gioco, contro il Taranto l'Avellino è apparso cinico, cattivo. Due partite che consentono a Braille di recuperare alcune pedine fondamentali in mezzo al campo, come D'Angelo, Maniero e Sbraga. Tre giocatori che finora non avevano resa ancora per i più svariati motivi, ma che adesso sembrano essere tornati loro stessi. Adesso, in attesa dell'ultima trasferta siciliana della stagione che contraporrà i Biancoverdi contro il Messina di Capuano, la squadra del tecnico Braille è chiamata ad ottenere la prima vittoria stagionale lontana dal partenio, sfatando un tabù che fino a questo momento ha tagliato le gambe agli Irpini sotto il profilo della classifica. In effetti, nelle prime 13 giornate, l'Avellino ha ottenuto una sola sconfitta fuori dalle mura di casa, rendendo il proprio stadio un vero e proprio fortino. Mentre trasferta la vittoria latide per una squadra che ambisce a volare alto, ad essa arriva il momento di spiccare volo e di dimostrare le proprie ambizioni dopo aver ritrovato, in parte, la serenità all'interno del proprio gruppo. L'Avellino dovrà tenere a mente che questo campionato non ha ancora una regina e difficilmente lavorerà sulla falsariga delle ultime due stagioni, con regina e ternana sovrano assoluto del Gironi C.